Per me è molto importante partecipare a questa campagna perché credo fortemente nel valore del rispetto verso gli altri e credo anche che la voce come la fotografia possa essere veicolo forte, pieno e attivo per un buon esempio e una buona comunicazione. Questo gesto per me significa sicuramente sorriso, un sorriso e un pensiero positivo. Ho imparato che dai momenti di difficoltà derivano sicuramente ed equivalgono momenti di trasformazione, di scelte e di nuove consapevolezze per se stessi e per gli altri, per chi ci sta attorno.